verbo avvalersi cosa significa significa usare utilizzare però in modo migliorativo cioè grazie all'ausilio di qualcosa mi sono avvalsa del tuo aiuto per riuscire a lavorare in questa azienda avvalersi cioè utilizzare al meglio c'è un si finale quindi è riflessivo lo conundiamo io mi avvalgo tu ti avvali lui si avvale noi ci avvaliamo voi vi avvalete loro si avvalgono grazie